Una conferenza stampa molto calda però si è uscita insomma con l'impegno di un tavolo da convocare entro la prossima settimana. La provincia ha manifestato per l'ennesima volta la volontà a parole, adesso aspettiamo la parte concreta che veniamo convocati e che loro rispettano tutti gli adempimenti che devono prendere da convenzione e legalmente. Non stiamo chiedendo nulla di più, purtroppo sono due anni che la provincia non ci risponde alle PEC, non ci contatta, non interagisce in nessun modo. Ah, ricordiamo che gli obelix sono ancora smontati e non sappiamo dove vengono riposizionati. Lei ha detto che la provincia è latetante? Assolutamente sì, il presidente aveva detto che in cinque giorni risolveva il problema prateritivo, invece quando il tribunale ha messo Marco Finori, il presidente della provincia molto probabilmente non piace questo tipo di gestione, è più attratto verso altri tipi di gestori e di gestioni, non capisco cosa hanno in più gli altri gestori ma questa sarà una vicenda a parte. Grazie.